Sì, penso che iniziamo con lo stesso perspektivo come ogni stagione e vogliamo vincere. Sappiamo anche che questa stagione la Lega è ancora più forte, quindi sicuramente non è facile. Penso che siamo più la favorita, preferita e penso che è veramente molto equilibrio nella Lega. Quindi penso che siamo pronti per una stagione molto dura, ma anche interessante per i tifosi. Come sempre c'è l'Italia che è il favorito e anche la Turchia che ha vinto il VNL. Penso che hanno giocato molto bene anche. Secondo me loro due, il resto, come hai detto, hanno solo iniziato, quindi le partite interessanti ancora non hanno giocato. Quindi è interessante da vedere cosa fanno in queste partite, ma come ho visto adesso, sì, Turchia e Italia sono forti. Senti, come vedi questa nuova Imoko? Insomma, siete ripartite da tante conferme, ma anche ci sono delle facce nuove, delle compagne nuove. Penso che le Imoko hanno ancora fatto una bella squadra. Penso che abbiamo qualche nuove facce, anche non così nuove, perché sono tutte le facce che conosciamo già dall'altra stagione, quando abbiamo giocato l'incontro. Sì, ma sono molto carica e sì, sono contenta anche con le persone e la squadra. Hai detto che sarà un campionato ancora più equilibrato, quindi alla fine cosa farà la differenza secondo te? Se trovo questa chiave per sapere cosa fa la differenza, ti lo dico, sì, grazie.